Salve a tutti ragazzi sono sempre io Buona nuova ragazzi, buona notizia Penso che presto arriverà la famosa Wifi, vi sto aspettando con ansia Ma non ho ancora a casa Maledizione Buon permese, arriva Così potrò caricare più velocemente i video E farne sicuro un oggi E chissà che potrò farne anche due al giorno Sì, magari Però almeno una cosa che posso assicurarvi Ragazzi che farò le serie sui giochi Cioè Iniziarne uno e continuarlo Giocarlo con voi Ma assieme a voi E vederlo insieme Cioè non vuole giocarlo privatamente E poi far vedere un'altra partita a voi No, giocarlo insieme E qui ci metto un punto La seconda bella notizia ragazzi Importantissima per me Non so per voi È che a settimane dovrei comprare Una console di nuova generazione Se sto parlando di Xbox One O di Playstation 4 Quale sarà? Go Allora Io ho già parlato di Xbox One Nel secondo vlog che ho fatto In cui ho accennato Che lo dovevo acquistare Solo che poi Ragionandoci Cioè io Pensando logicamente Avrei dovuto continuare Dalla 360 Avrei dovuto continuare la serie Xbox Comprando la One E così mi trovavo Anche con la camera Ma e così Però ragazzi Ho saputo Ho letto su internet Che Xbox One Ma fa Il massimo di video Di 5 minuti Di gameplay Con lo gratuito Cioè il game di VR Che registra Quello che appare Sullo schermo Invece la Playstation 4 È più avvantaggiata Perché ne ha 15 minuti Di registrazione Quindi a me è più comodo Fare un così Posso fare gameplay Di anche di 15 minuti E questo per me va bene Solo che È già È già lì C'è una grande differenza Solo che Siccome io sono una testa di cazzo Ragazzi Testa di C'è Cambio velocemente Idea sulle cose Su tutto Che siano giochi Che siano computer Che siano console Telefonini Su tutto Ho deciso Che comprerò La Playstation 4 Ma non L'edizione normale Ma l'edizione bundle Con Batman H.N.I.T Un gioco Veramente bellissimo Che ho già visto Al contemplei Ok E quindi L'avanti Non l'ha compito Poi Penso proprio Che con quel gioco Che sarà il primo Con la bundle Che ne comprerò Subito degli altri Ci farò Dei gameplay Cioè Devo farli Eh Ecco Come avevo detto prima Seguirò Diciamo Un puntato Con voi Assieme a voi Ragazzi Mi sta vendendo già La collina alle mani Perché avrò Un joystick della play in mano Mi sta già vendendo La collina alle mani Che cazzo sta dicendo La collina alle mani Beh ragazzi Fatemi sapere Con un commento Sotto al video Quale console Volete che compri O Xbox One O Xbox One 4 E io Vi risponderò Però So già Quale console Prendere Però voi Così Scrivetemi Quindi ragazzi Per questo video È tutto Alla prossima Alla prossima